Non è una cosa... a volte veniamo presi un po' come astronauti, questo cosa mi sta dicendo? Io ho sempre guidato così, sì è sempre guidato così perché è il tuo modo di essere, è il tuo modo di guidare. Quando viene cambiata la tecnica di guida capisci che al fine di un corso, come succede anche in questi giorni con gli allievi, capiscono dire sì è vero, sento la macchina più sicura, riesco a fare cose molto più sicure in maniera anche con l'andatura più veloce utilizzando il mezzo, capendo cos'è bagnato, cos'è asciutto, cos'è l'umido, un ingresso di cuore, come si frena e come si imposta la traiettoria anche su strada normale, perché la nostra corsia è come una pista. La domenica mattina quando mi sono svegliato ho capito che ormai mancava veramente poco al grande evento.